Ah, finalmente una bella passeggiata. Speriamo di non incontrare qualcuno che ci rompa le uova anche questa volta. Ma no, tranquilli, non incontreremo nessuno. E che cos'è questo? Oh, eccoli! Eh, ma loro sono... Eh, Sbito, perché li prendo in giro? Prenderli in giro. Scusa, ogni volta che incontri una persona ce lo prendi in giro, perché adesso non lo fai? Perché loro sono gli Avengers. E quindi, che erano gli Avengers di diverso rispetto a Moriss e a Kai? Beh, loro sono grandi e sono forti e sono fatti di pelle. Non so proprio di che cosa voi stiate parlando. E infatti, neanche io! No, 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 niente, io voglio solo un autografo. Mai sentiti voi quattro? Avete sentito? Il mamut non ci ha mai sentiti. Cosa? Ma noi siamo famosissimi! Com'è possibile che tu non ci conosca? Ma che devo fare? Non vi conosco! Io invece vi conosco e vi adoro. Sono vostro grande fan. Oh, grazie, avete sentito? Abbiamo un fan. Wow! Spino, parlaci tu. Io non mi avevo niente a che fare con loro. Ma scherzi, mamme. Ma noi sono gli Avengers! E quindi? E quindi sono eroi. Sono i più forti eroi della terra. Ma sei ignorante, allora, mamme? E guarda che io non so l'ignorante! Ma se non conosci gli Avengers! Voi conoscete Smilio e mamme? Ma noi abbiamo solo 9 iscritti! E quindi? E quindi non è poi così possibile che ci conoscono? Oh, giusto. Non ci sto capendo niente! Neanche io! Neanche io! Neanche io! Neanche io! Io sì! Se volete ve lo spiego anche! Non abbiamo altro tempo da perdere! Dobbiamo andare a salvare il mondo! Oh, spacco!